Grande successo per la Lube Banca Marche Macerata che vince al tie break contro la Brebanca Lanutti Cuneo. In un fonte scodella tutto esaurito decisivo il tie break per confermare la scia positiva targata Alberto Giuliani. Una grande vittoria quella della Lube che conferma lo stato di buona salute di un grande gruppo. Sentiamo le voci dei protagonisti. Quello è ormai una rivalità bella che è sentita molto, però soprattutto mi fa tanto piacere vedere questa gente qua e poi all'ultimo punto un'esplosione di gioia. È stata veramente bellissima. Comunque non è stata una bellissima partita visto che ci sono stati tanti errori a mio punto di vista. E poi erano poco flui, si è sentita sicuramente anche un po' la stanchezza di una settimana importante. Però i punti, la vittoria è qua e siamo molto contenti e andiamo avanti così. È stata una battaglia, c'è stato cuore secondo me da entrambe le parti e fino all'ultimo punto forse meritavano tutte e due le squadre di aggiudicarsi il match. Credo che la nostra pazienza, che secondo me ci sta anche contraddistinguendo in questa ultima uscita dove siamo normalmente un po' ad alti e bassi, riusciamo ad esprimerci a grandi livelli come a livelli magari un po' meno alti. In questi momenti meno alti siamo sempre molto cinici e facciamo le cose che servono per fare il punto. E questo credo che all'inizio di questa avventura non sia facile acquisire un valore così. Metterlo in campo con queste grandi squadre, come è stato con Trento, come è stato stasera, secondo me anche in Champions League è sinonimo di grande fiducia e di grande carattere. Una cosa che mi piace tanto e che mi è piaciuta tantissimo stasera è la gente che viene a vedere le partite. Questa è una grande soddisfazione, scendere ogni volta in questo palazzetto e vedere tanta gente che tifa per te è una soddisfazione grandissima.